Ciao ragazzi, ben ritrovati nella Baia, sono Ben. Quest 3 bloccato. Oggi vi do tre possibili soluzioni e mi fate sapere tra i commenti quale di queste vi ha risolto il problema, oppure se ancora continuate ad avere il dispositivo completamente bloccato. Cosa è successo? Molti stanno lamentando un problema dopo l'ultimo aggiornamento, ossia il visore non si accende e pare non rispondere praticamente a nessun comando. Come si verifica questo problema? Soprattutto per quei visori che sono stati lasciati spenti per molto tempo, oppure per chi di voi ha disattivato per esempio gli aggiornamenti e ha saltato diverse versioni. Come vedete, alla fine o li fate o non li fate, in qualche modo comunque se c'è da rimanere bloccati restate ugualmente bloccati. Il fatto è che questi tipi di problemi si sono verificati anche con Quest, il primo modello, o anche con Quest 2 e nella stragrande maggioranza delle volte per quei visori che sono stati lasciati spenti per tanto tempo o altrimenti con aggiornamenti disattivati. Poi in qualche modo il visore o deve essere attivato, oppure ha modo di fare automaticamente l'aggiornamento e quindi il nuovo aggiornamento va in contrasto con l'aggiornamento attualmente installato sul visore e il visore come si dice in gergo si bricca, cioè da brick diventa un mattone. E quindi ecco che non si accende più e diventa soltanto un oggetto da posare da qualche parte e lasciarlo morire lì. Meta è a conoscenza del problema, sta già cercando una soluzione, al momento non intasate l'assistenza perché non hanno delle soluzioni, stanno semplicemente raccogliendo dei feedback per cercare di capire quali sono le modalità che ha fatto scattare questo problema. Però intanto io vi do tre possibili soluzioni e sono le seguenti. Per prima cosa provate ad effettuare un cosiddetto hard reset, che non è il reset di fabbrica, semplicemente provate a tenere premuto per 45 secondi il tasto del visore o comunque tenetelo premuto anche per un minuto fin quando il visore non si accende. Se questo non dovesse funzionare ecco la seconda possibile soluzione, ossia avviare il menu di boot, che in pratica è quello che dovete avviare per fare il reset di fabbrica. Tenete premuto per qualche secondo, contemporaneamente tasto di accensione e uno dei due tasti volume, adesso non ricordo bene quale sia. Se e quando lo schermo dovesse accendersi immediatamente rilasciate entrambi i tasti e vi apparirà un menu, uno schermo nero con alcune scritte bianche. Tra queste voci che compaiono ci sono due delle soluzioni che vi sto suggerendo. La prima è quella di boot, c'è scritto boot device, che avvia normalmente il visore. Quindi si spera che questo metodo vi faccia arrivare fino al momento in cui il visore si accende e poi provate ad avviarlo normalmente muovendovi con i tasti volume su e giù. Vi spostate su boot device e per confermare premete il tasto di accensione. Se anche questa soluzione non dovesse funzionare perché per esempio il visore dopo che voi premete boot device va a una schermata nera oppure prova a riavviarsi ma rimane spento. E allora a questo punto provate il reset di fabbrica che dovrebbe risolvere un po' la soluzione nel senso che vi riporta il visore alle vostre condizioni di fabbrica. E quindi poi dovete fare nuovamente l'aggiornamento. Quindi abbiamo detto soluzione numero 1 hard reset. Col visore spento per 45 secondi o anche per un minuto tenete premuto il tasto di accensione e si dovrebbe accendere. Soluzione numero 2 avviate il menu di boot. Tenendo premuto per qualche secondo tasto di accensione è uno dei due tasti volume e selezionate con i tasti volume selezionate la voce boot device. E in questo caso il visore si dovrebbe accendere. Terza soluzione reset di fabbrica. Ancora una volta per qualche secondo tasto di accensione più uno dei due tasti volume. Quando si accende rilasciate questi tasti e quando entrate nel menu di boot spostatevi con i tasti volume sulla voce factory reset o reset di fabbrica dipende come trovate la voce. E diciamo che se riuscite ad arrivare al reset di fabbrica e a completare la procedura il problema dovrebbe risolversi. Però provate le soluzioni in quest'ordine non fate direttamente il reset di fabbrica perché magari con una delle due soluzioni precedenti riuscite a risolvere. Io purtroppo non posso darvi conferma su una di queste tre soluzioni perché non avendo il visore bloccato non le ho provate personalmente quindi sarete voi tra i commenti a farmi sapere se le provate ed eventualmente se risolvono il problema. Ragazzi qualora il problema si dovesse risolvere comunque sia gli aggiornamenti io vi suggerisco di farli. Quello che vi sconsiglio è di attivare il canale beta che quella è una cosa che riguarda gli sviluppatori. Perché chi è iscritto al canale beta riceve gli aggiornamenti in anticipo ma sono gli aggiornamenti solitamente quelli scassati. Quindi chi è nel canale beta diciamo che fa da cavia per questi aggiornamenti. Invece gli aggiornamenti quelli che arrivano poi a tutti quelli non sono più in beta quelli sono testati dalle varie persone che hanno attivato il canale beta quindi sono un po' più stabili. È chiaro se succedono queste cose che meta stessa non testa gli aggiornamenti però un consiglio che vi posso dare gli aggiornamenti fateli perché se saltate più versioni semplicemente perché no mi cambia il colore delle icone io voglio mantenere il colore che avevo prima. Beh se saltate qualche aggiornamento poi arriva il momento in cui il visore si blocca e comunque sia dovete presentarlo dovete riaggiornarlo e in ogni caso quello che volevate fare cioè lasciare il visore in quella condizione che per voi è perfetta comunque sia non potete farlo perché prima o poi sarete costretti ad aggiornare. Se tanto vale dovete aggiornare per forza e allora aggiornate ogni volta per come è previsto che sia attivate gli aggiornamenti automatici e quando vengono rilasciati il visore si aggiorna automaticamente non me ne accorgete neanche. Poi se non siete utenti abituali magari che lo accendete ogni giorno ogni settimana lo accendete una volta ogni due mesi tre mesi ricordatevi che almeno una volta a settimana lo dovete accendere in modo tale che se ci sono degli aggiornamenti e se ci sono dei sotto aggiornamenti di quelle versioni il visore si fa il suo aggiornamento e rimane aggiornato. Se il video vi è stato utile lasciate un like iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e come al solito vi aspetto nella baia un saluto marmaia.